Buongiorno a tutti e benvenuti nel museo della disperazione. No, non è un semplice museo come quelli che potete trovare nelle città d'arte. Se pensate di poter ammirare qua dentro opere d'arte dell'antichità o robe del genere, state sbagliando di grosso. In questo museo ogni quadro contiene la testimonianza di un uomo o di una donna che ha affrontato con prontezza e sicuramente disperazione quest'ultimo anno. Oggi vi illustrerò solo alcune delle centinaia di storie presenti qui dentro. Inizierei dal quadro alla nostra destra, rappresentante Luca, 36 anni, infermiere. Sono stremato. Ormai passo tutto il mio tempo in ospedale e non so se devo ringraziare il papa che si è messo a schiaffeggiare la cinese o se è tutta colpa di bugo che se ne è andato. In questo breve messaggio volevo semplicemente dirvi di fare il vaccino. Che se non vi vaccinate non è che ne usciremo obesi, ma ne usciremo... non ne usciremo proprio. Che poi voi siete sopravvissuti a mangiare sushi a 9,90 euro all'olio canit e facendo il bagno a Jesolo e in Romagna tutte le estati. E ora vi preoccupate di un vaccino. Passiamo ora alla prossima testimonianza. Giulia, 15 anni, liceale. Per noi giovani questo periodo è un inferno. Tra video lezioni e compiti a non finire sono sfinita. Ho addirittura passato del tempo con la mia famiglia. Onestamente sembrano brave persone. Comunque volevo capire se quest'estate posso andare da qualche parte, oltre al passare dal soggiorno al bagno o dalla camera da letto alla cucina. Perché va bene tutto, ma io pensavo si dicesse Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. E invece è stato Pasqua con i miei, Natale con i miei, Pasqua di nuovo con i miei. Spero possiate capire che Ferragosto mi piacerebbe passarlo con qualcun altro. Siamo quasi giunti alla fine della nostra visita, ma prima di lasciarvi andare volevo mostrarvi ancora due quadri. Uno è questo. E come ben potete vedere rappresenta Billy, un cane. Non ho molto da dirvi, ma per favore basta! Basta sfruttarmi ogni cinque minuti per andare a fare una passeggiata! Sono sfinito! Concludiamo la visita con l'ultimo quadro raffigurante uno dei personaggi simbolo della quarantena. Giuseppe Conte, 56 anni, ex, anche se rimarrà sempre nei nostri cuori, presidente del Consiglio dei Ministri. Buongiorno miei cari italiani! Come potete aver ben capito dalle mie occhiaie che ogni conferenza stampa erano sempre più accentuate, sono esausto! Volevo solo dare un consiglio al mio successore. Caro Draghi, oltre a riaprire negozi, parrucchieri, scuole, affrettati a riaprire anche i manicomi, che ce n'è un'evidente necessità. Invece a voi, cari italiani, mi sento in dovere di consigliarvi di cominciare a impastare il panettone. Carissimi visitatori, la vostra visita al Museo della Disperazione si è appena conclusa. Vi auguro una buona giornata e di non raggiungere mai i livelli delle persone che abbiamo appena ascoltato. Grazie!